Musica Buonasera professor Berbero Buonasera Allora il quadro da cui partiremo questa sera rappresenta un porto con delle navi il porto è quello di Genova vediamo delle navi con le vere spiegate sono navi militari da trasporto il trasporto con nave è stata la grande risorsa dell'antichità perché andare per nave era più veloce però c'era un conveniente quando si fa il trasporto via terra non si affonda il mare si cola a picco e a un certo momento nasce però un'invenzione infatti è una delle grandi invenzioni del medioevo e cioè le assicurazioni addirittura già nel medioevo sì alla fine del medioevo sembra strano perché tutto sommato noi oggi pensiamo alle assicurazioni come a un pilastro del capitalismo moderno però in realtà se pensiamo a tutte le cose che hanno inventato i mercanti medievali italiani ecco hanno inventato la banca il trasferimento di fondi l'assegno, la società per azioni e hanno inventato anche l'assicurazione ma la cosa curiosa è che all'inizio era una scommessa una scommessa sulle probabilità che l'incidente avesse luogo oppure no quindi si giocava sulla possibilità o meno di oggi sono delle statistiche molto raffinate allora non c'era allora infatti dovevano un po' andare a caso ma era una vera scommessa con anche il gusto del rischio che c'è nelle scommesse in altre parole succedeva questo un mercante sta aspettando una nave carica di spezie magari che arriva dall'oriente il carico ha un valore enorme se la nave arriva il mercante ha fatto fortuna ma se non arriva, se cola a picco il mercante è rovinato è lì in ansia e arriva un altro uomo d'affari e gli dice senti facciamo una scommessa io scommetto che la tua nave arriva in porto sana e salva quanto vale il carico? c'è mille fiorini benissimo io scommetto che arriva e se avinco la scommessa tu mi paghi 100 fiorini e il mercante dice ma io scusa cosa ci guadagno? ci guadagni che se invece la tua nave fa naufragio e non torna ti pago io mille fiorini tutto il valore del carico ti pago e il mercante accetta e queste scommesse si diffondono e naturalmente bisogna saper calcolare le probabilità per evitare di andare in rovina c'è una cosa curiosa che a Venezia nel momento di massimo splendore della Serenissima quando le navi veneziane facevano affari d'oro perché andavano a prendere le spezie e al porto di Venezia c'erano persone che facevano un po' la stessa cosa ma non dei grandi assicuratori della gente comune che andava al porto e chiedevano ma c'è una nave che parte? sì questa nave parte beh io partecipo con una caratura con una parte con una quota a rischio che è una specie di lotto del gioco del lotto per cui se andava bene si guadagnava bene se andava male si perdeva poco perché si divideva il rischio e infatti il concetto dell'assicurazione sta tutto in quello e Venezia era una delle capitali delle assicurazioni nel Rinascimento assicuravano e ancora oggi turco che spesso ha combattuto contro i veneziani contro i cristiani però era anche un uomo d'affari come spesso questi pasciaturchi trafficavano vendevano il grano a Venezia anche di contrabbando il sultano proibiva ma i suoi stessi ministri lo vendevano lo stesso a Venezia e Pialy Pasha assicurava le sue navi a Venezia Genova a Genova noi vediamo qui le galere a remi della flotta da guerra c'erano questi grandi armatori spesso erano proprietà privata le navi da guerra e assicuravano anche quelle contro i rischi della guerra a Lepanto c'è un ammiraglio cristiano genovese Gianandrea Doria che possiede appunto 11 galere sono sue le affitta al re di Spagna quindi in guerra le spese le paga il re di Spagna ma il capitale è suo ora quando la flotta cristiana parte da Messina per andare in cerca del nemico Gianandrea Doria scrive a Genova dicendo prorogate l'assicurazione per almeno altri due mesi poi il 7 ottobre c'è la battaglia il giorno dopo la grande vittoria il giorno dopo tutti gli ammiragli cristiani scrivono a casa per dire abbiamo vinto Gianandrea Doria scrive a Genova per dire adesso potete disdire l'assicurazione e a un certo punto però questi affari assicurativi si spostano vanno a nord vanno in Olanda soprattutto in Inghilterra e sì il Mediterraneo e l'Italia entrano in decadenza nel 600 le grandi rotte commerciali sono quelle dell'Atlantico e proprio a Londra c'è un caffè che è frequentato da armatori marinai lì arrivano tutte le notizie sulle navi che stanno entrando in porto che devono partire e a un certo punto il padrone del caffè ha l'idea di proporre ai suoi clienti di costituire una di quelle società di cui parlava lei per mettersi tutti insieme e dividere il rischio dell'assicurazione e il padrone del caffè si chiamava Lloyd e lì nascono i Lloyds di Londra e da qui nasce poi il fatto che le assicurazioni a loro volta si riassicurano per dividere il rischio un po' come facevano i veneziani che prendevano delle quote e dividevano il rischio e sì così si evita che colli a picco non la nave ma la società di assicurazioni grazie professore è vero grazie